L'appuntamento di quest'anno per ricordare l'eccidio della benedicta ad Alessandria è particolarmente significativo. Sono passati 70 anni da quel 7 aprile 1944 in cui i nazifascisti fucilarono in diversi momenti più di 150 partigiani e ne mandarono molti altri ai campi di concentramento. Durante la serata commemorativa è stato proiettato il film di Lizzani del 1951, Actun Banditi.